La festa della Beata Vergine Maria di Guadalupe è festa di tutte le Americhe e delle Filippine che l'hanno voluta come patrona e Papa Francesco la indica come madre che porta la riconciliazione nella nostra benedetta terra latinoamericana. Per la terza volta nel suo pontificato, l'argentino Bergoglio celebra solennemente nella Basilica di San Pietro la memoria liturgica della Guadalupana, accompagnato dai canti in diverse lingue indigene, da Nahuati fino al Guarani. Ai tanti fedeli delle comunità latinoamericane e filippine presenti a Roma, il pontefice, commentando il Vangelo della visitazione, ricorda che la fede di Maria sa entrare dentro la storia e da lei dovremo imparare per essere sale e luce nelle nostre vite e nella nostra società. Una società marcata da divisione e frammentazione che purtroppo lasciano fuori gioco tanti. Una società alla quale piace vantarsi dei suoi progressi scientifici e tecnologici, ma che è diventata cieca e insensibile davanti a migliaia di volti che restano indietro nel cammino, esclusi dall'orgoglio accecante di pochi. Una società che finisce con il creare una cultura della disillusione, del disincanto e della frustrazione in tantissimi nostri fratelli e anche di angoscia in tanti altri che sperimentano difficoltà per non restare fuori dal cammino. Si è creata così, spiega il Papa, una società della sfiducia che genera stati di indolenza e dispersione. Quanto è difficile vantarsi della società del benessere quando vediamo che il nostro caro continente americano si è abituato a vedere migliaia e migliaia di bambini e di giovani di strada che mendicano e dormono nelle stazioni dei treni, nei sotterranei della metropolitana o dove riescono a trovare un posto. E l'elenco delle sofferenze prosegue con i giovani che mendicano agli incroci o sono vittime dei mercanti della morte, gli anziani che vivono nella solitudine e le donne che subiscono molte forme di violenza. Ci sarebbe da dubitare della fede e specialmente della speranza, commenta Papa Francesco, ma abbiamo una madre e dove lei non mancherà la lotta in favore della fraternità. Sempre mi ha impressionato vedere in diversi popoli dell'America Latina quelle madri lottatrici che, spesso da sole, riescono a mandare avanti i figli. Così è Maria con noi, suoi figli. Donna lottatrice di fronte alla società della sfiducia e della cecità, di fronte alla società dell'indolenza e della dispersione. Donna che lotta per rafforzare la gioia del Vangelo. Lotta per dare carne al Vangelo. La presenza della Guadalupana, conclude Papa Francesco, ci porta alla riconciliazione, dandoci la forza di generare legami che ci aiutino a dire sì alla vita e no ad ogni tipo di indifferenza, di esclusione, di scarto dei popoli o di persone. Grazie. Grazie.